Severino è nato a Brescia nel 1929, ha insegnato filosofia da prima a Pavia, poi alla Cattolica di Milano, ha vinto la libera docenza a 21 anni, è ordinario di filosofia teoretica all'Università di Venezia. Il pensiero di Severino è al centro del dibattito filosofico degli ultimi anni. Ha pubblicato numerose opere e ci limitiamo qui a citarne soltanto alcune. Heidegger e la metafisica, la struttura originaria, essenza del nichilismo, la tendenza fondamentale del nostro tempo, il gioco, destino della necessità, la filosofia futura. L'editore Adelphi dedica una collana alla pubblicazione di tutte le opere di Severino e collaboratore del Corriere della Sera. Professor Severino, io le vorrei chiedere innanzitutto come mai ha scelto filosofia. Le chiedo in altre parole di parlarci un pochino della sua vita. Chi è lei? E cioè come sono arrivato alla filosofia? Come è arrivato, qual è un po' la sua storia? Ma io ricordo questo, che la famiglia, soprattutto di mio padre, era una famiglia molto cattolica. Per esempio mio padre aveva ben due fratelli che avevano una posizione preeminente nell'ordine dei gesuiti. E questo ha fatto sì che mio padre, che era ufficiale effettivo dell'esercito, ha fatto la prima guerra mondiale, tra parentesi, era su un fronte dove aveva, il fronte dell'Isonzo, aveva di fronte a sé Wittgenstein. Wittgenstein combatteva dall'altra parte. mio padre, penso per questa sua educazione familiare, mi mandò a studiare dei gesuiti di Brescia, nel collegio dove ha studiato Papa Montini. E lì io ho fatto tutto il corso degli studi, dove se dovessi dire il tipo di insegnamento che più era pregevole e che più mi interessava, dovrei dire che era quello di tipo fisico-matematico, mentre l'insegnamento della filografia non era un gran che. Contemporaneamente mio fratello era normalista a Pisa. Allora io ricordo molto bene che da una parte sentivo l'educazione dei gesuiti, dall'altra parte c'era mio fratello che da Pisa di chi mi parlava, di Giovanni Gentile. In modo che io mi ricordo che certe cose che io ascoltavo con estremo interesse, mio fratello aveva nove anni più di me, poi nell'ultima guerra è mancato in seguito alla guerra. E allora era particolarmente stimolante questa vicinanza tra l'educazione cattolico-gesuitica e queste voci gentiliane che mi venivano da mio fratello. Io intanto avevo, appunto come l'ho detto prima, delle preferenze per soprattutto la matematica, la matematica, la fisica e contemporaneamente avevo un altro interesse, cioè la musica. Io sono un musicista fallito, c'era Carnarv che diceva che i metafisici sono dei musicisti falliti. E beh se io fossi un buon metafisico gradirei essere ben fallito nell'ambito musicale. Lei compone, credo? Componevo, sì. Componevo e hanno anche una volta eseguito un mio pezzo, adesso mi sto elogiando, un mio pezzo per strumenti a fiazza. E lo stile era un po' Schoenberg, Stravinsky, ecco il clima era questo. Ebbene stavo dicendo, avevo anche questo interesse musicale, per cui dalla musica alla riflessione sulla musica, il passo è stato breve. E allora lì i testi che mi interessarono furono, un testo che per me rimane tuttora molto notevole, di Hans Lick, sul bello musicale, e poi gli scritti di Nietzsche, Nietzsche, e poi Schopenhauer. E ormai il transito verso la filosofia era già un piano inclinato. Era segnato. Ho capito. Fra l'altro lei ha due figli che mi sembra ricalchino un po' le sue due passioni fondamentali. Ma, dunque, mia figlia è una formidabile matematichessa, perché io me la ricordo, l'andavo ad ascoltare di nascosto quando, a 23 anni, lei ha studiato la cattolica matematica e fisica con particolare rigore, andava ad ascoltare che faceva il corso di matematica generale, poi si è sposata, adesso è ordinaria di matematica e fisica al liceo di Ivrea. Mio figlio è notevole come scultore, vive facendo delle cose estremamente interessanti. Mi hanno detto, perché lui queste cose non me le dice mai, che Monsignor Re, che se non vado errato, è il numero tre o molto alto nella gerarchia vaticana. aveva visto a Bienno, a Bienno è un paesino nella provincia di Brescia, dei pezzi di mio figlio, dice che questi pezzi sarebbero bene in Vaticano. Ma lui ha delle commissioni da parte di chiese, ha fatto degli altari bellissimi, ha arredato parecchie chiese, non solo a Bresciana ma dalla provincia. Insomma la vena artistica e la vena matematica. La presa dalla mamma questa, perché io direi che sono leggermente più sordo dal punto di vista delle arti figurative. Il resto è stasiato, ma sono meno... Credo che questa vocazione lui la prese dal suo male, che il disegno è molto bene. Senta, lei è diventato filosofo, e allora mi viene subito da chiederle cosa vuol dire essere filosofo oggi. Qual è il suo ruolo? Incominciamo a dire che cosa oggi il filosofo fa. Proviamo a dirlo nel modo più rapido e più semplice. Direi che oggi l'atteggiamento dominante è la scienza. E la scienza non ha più la pretesa di conoscere delle verità assolute, ma è quel tipo di conoscenza che è capace di dominare il mondo più che non le altre forme di conoscenza. Ormai la fede che muove le montagne è la tecnica scientifica. Perché ciò accada, è necessario però che si sia convinti che esista una dimensione dominabile. sembra un'ovvietà, però prima di mettersi a navigare bisogna essere convinti che esista il mare. Ebbene, se il mare è la dimensione del dominabile, cioè che esiste un mondo fatto di cose che possono essere prodotte, distrutte, controllate, modificate, eccetera. Allora solo a condizione che esiste questa dimensione, solo allora è possibile l'esercizio del dominio. Oggi la filosofia, per un seguito di vicende, che adesso di cui qui facciamo grazie all'ascoltatore televisivo, per un seguito di vicende la filosofia ha il compito di tenere in vita, di tutelare, di proteggere il mondo così inteso, cioè il mondo inteso come campo del dominabile, quindi come dimensione del divenire. Non è che il divenire del mondo sia qualche cosa di assolutamente evidente. Il divenire del mondo è stato inventato dalla filosofia, cioè la filosofia ha inteso il divenire del mondo come uscire delle cose dal niente e ritornare delle cose nel niente. Allora la filosofia oggi ha soprattutto questo compito, tenere in vita il terreno senza di cui non sarebbe possibile la stessa attività scientifica. Cioè ci faccia capire che mi faccia capire. Lei vuol dire che soprattutto gli scienziati cercano di elaborare dei metodi, delle tecniche per trasformare qualche cosa che si suppone sia trasformabile. Questo è l'obiettivo, è quello di cui si occupano. E la filosofia cerca di aiutarli a sistematizzare, almeno parte della filosofia, a dare un ordine a questa conoscenza, elaborando dei metodi eccetera. No, ho tentato di dire qualcosa di più radicale. Cioè, come prima dicevo, perché ci si proponga di navigare è necessario essere convinti che il mare esiste. Certo. Ora questa sembra un'obvietà, però se si risale nella storia dell'umanità, gli uomini non pensano il mare come percorribile, navigabile, solcabile, non pensano il mondo come percorribile, ma pensano dalle strutture rigide, dalle quali inizialmente sono oppressi, soffocati. Cioè il mondo costituito da un insieme di strutture inflessibili. Cioè qualcosa di dato. Ancora di dato nel senso di come legge immodificabile. Il mondo del mito, strutture inflessibili che riducono al minimo l'azione dell'uomo. Poi l'uomo reagisce contro gli inflessibili e allora possiamo dire li vuole flettere. Ma perché questo avvenga nella forma più radicale, perché questo granito che inizialmente si presenta all'uomo si liquefaccia e sia manipolabile, è necessario pensare il divenire del mondo, la liquidità della realtà. Lei sa che senz'altro che Simmel diceva che il denaro è l'immagine più pertinente della realtà, perché il denaro è liquido. Ecco, la liquidità del denaro corrisponde alla liquidità della realtà. Se la realtà fosse fatta da una rete che non può essere, o fosse una struttura immutabile, non ci sarebbe azione. La filosofia ha portato alla luce il concetto di una realtà trasformabile, senza di cui non semplicemente non potrebbe sussistere questo o quel metodo della scienza, ma non potrebbe nemmeno sorgere il progetto di una dominazione del mondo. Allora, da questo punto di vista, la filosofia ha vanamente tentato di essere inutile. E' invece sempre stata la fonte dell'utilità, perché se non si pensa il mondo come diveniente, non ci si può nemmeno proporre di dominarlo, di costruirlo, di trasformarlo. In proposito, io penso all'opposto di quel celebre aforisma di Marx. Marx dice, fin qui i filosofi hanno contemplato il mondo, ora si tratta di trasformarlo. Io direi, la filosofia nella sua prospettiva storica, finora ha trasformato il mondo, anzi è stata la radice di ogni trasformazione del mondo. E questo conduce a cose di cui forse parleremo dopo. Ma si tratta finalmente di contemplarlo, cioè di capirne il senso. Credo che l'estremo carattere pratico, nonostante quello che si dice, perché questo discorso è un discorso che normalmente non è in circolazione, nonostante il carattere pratico del pensiero filosofico, quindi una praticità per cui la filosofia è essenzialmente solidale con la scienza, bisogna incominciare a vedere qual è il senso del mondo. E se allora il compito della filosofia, lei prima mi diceva cosa vuol dire essere filosofi oggi, allora se oltre al compito storico che fin qui la filosofia ha svolto, e cioè di essere la sentinella del divenire del mondo, non ce ne sia un altro più importante, quello di mettere in questione il senso del mondo che ci conduce alla scienza, alla civiltà della tecnica. Allora questa sua affermazione mi porta a rialacciarmi a un suo libro, La tendenza fondamentale del nostro tempo, cioè quale è la sua visione, allora come filosofo dopo quanto ci ha detto, del mondo d'oggi? La storia dell'Occidente è ricca di una grande tradizione, cristianesimo, illuminismo, democrazia, e alle spalle di tutto questo sapienza filosofica, capitalismo, socialismo. Tutte queste grandi voci sono ormai le grandi voci del passato, ognuna di esse è conflittuale rispetto alle altre. Per esempio il mondo che vuole essere realizzato dal cristianesimo non è il mondo che vuole essere realizzato dal capitalismo o dal socialismo. E come ognuna di queste grandi forze intende realizzare il proprio mondo? Servendosi della tecnica, ossia servendosi di ciò che da tempo chiamo l'apparato scientifico tecnologico. Ora il circolo che si produce, che forse agli occhi del passato può sembrare un circolo perverso, è questo, che l'ideologia parte con l'intento di realizzare i propri scopi. Ma vuole realizzare i propri scopi servendosi di uno strumento che deve essere efficace, l'apparato scientifico tecnologico, per essere efficace ha delle esigenze, delle esigenze che esigono, delle esigenze di performance, di funzionalità, di efficacia, delle esigenze che esigono di non essere ostacolate da quel pensiero ideologico che vorrebbe servirsi dello strumento. Si che accade che da ultimo lo scopo non sia più la realizzazione del cristianesimo, del socialismo o dello stesso capitalismo, ma sia il carattere ottimale, l'incremento indefinito della potenza, del mezzo che sarebbe dovuto servire per realizzare l'ideologia. Guardiamo, c'era una volta un santuomo il quale passava il suo tempo a dire preghiere e a fare opere di bene. E poi sentì dire che c'era la guerra in Terra Santa, e allora volle anche lui andare in Terra Santa per difendere il cristianesimo, ma si rese conto ben presto che doveva sapere guerreggiare e allora incominciò a dire meno preghiere e a fare meno opere di bene per impratichirsi nell'uso delle armi, fino a che non ci fu più un'ora nella sua giornata in cui pensava alla preghiera e alle opere di bene, ma era totalmente proiettato all'uso ottimale delle armi e quindi anche lì lo strumento è diventato fine. E quindi ciò che doveva essere strumento per realizzare il cristianesimo di questo santuomo in Terra Santa, lo strumento, cioè la capacità bellica, è diventato invece il suo scopo. Ecco, al posto di quest'uomo mettiamo le grandi ideologie del nostro tempo, il capitalismo vuol servirsi della tecnica, il cristianesimo vuol servirsi della tecnica, il socialismo ha voluto servirsi della tecnica. Cosa è successo nell'Unione Sovietica? Che le esigenze della tecnica hanno mostrato che il socialismo intralciava il funzionamento ottimale e il socialismo è stato tolto di mezzo. Rimane sempre il mito del progresso però, comunque. Direi che non si tratta di un mito del progresso perché non vedo in che modo si possa applicare qui la categoria del progresso. Cioè lo sviluppo economico, eccetera, basato sull'evoluzione scientifica, sull'applicazione, cioè sottintende un'idea di uno sviluppo ulteriore, di un processo. Che poi si tratti di progresso, questo è da discutere. Il processo è verso un apparato il quale soprattutto vuole tenere in vita se stesso. Parte con l'intendo di tenere in vita il mondo del nord, ma innanzitutto deve tenere in vita se stesso. Quindi ci dirigiamo verso una situazione dove lo scopo ultimo è la subordinazione dei grandi ideali del passato dell'Occidente. Penso che anche il mondo islamico tra poco si troverà in una situazione del genere. Il mondo islamico si è trovato da poco in rapporto alla tecnica, il problema petrolifero, il problema dell'armamento. Ma anche il mondo islamico si renderà conto e già molti passi sono stati compiuti in questa direzione, che se si vuole essere efficaci nell'antagonismo rispetto al mondo cristiano occidentale si deve lasciar cadere l'esigenza religiosa, islamica, eccetera. Bisogna adottare quelle procedure che dovrebbero consentire la realizzazione di quello. Quindi si va verso uno strumento onnipotente il quale però promette la soddisfazione di tutti i bisogni dell'uomo. C'è un ultimo passo, non so se le interessa, ma per ora mi fermo qui. No, no. Cioè evidentemente io sento un senso di disagio suo di fronte a questo tipo di processo. Lei come si colloca di fronte a questo movimento? che noi abbiamo poco da mostrare il nostro disagio perché conta poco. Il nostro disagio conta poco. E come si colloca uno conta ancora di meno. E quando parlavo prima di processo, quando ci eravamo messi d'accordo sul concetto di processo, si tratterebbe di capire che è un movimento inevitabile. dove il disagio esprime potremmo dire in termini un po' brutali l'invidia delle volontà di potenza tradizionali, delle fedi tradizionali. L'invidia che esse provano rispetto a questa volontà di potenza che è impersonata dall'apparato che riesce a subordinarle e a porsi come la potenza vincente. A questo punto far valere le nostre istanze intimistico-spiritual-antropologico-soggettive. Penso che questo sia il discorso perdente di tanta parte dell'umanesimo contemporaneo. Cioè, la tecnica ha una potenza concettuale tale per cui va aggredita in modo totalmente diverso da quello sperimentato dallo stesso Heidegger, dalla scuola di Francoforte, dalle varie contestazioni di sinistra, dalla cultura di sinistra, dalla protesta contro la cività della tecnica. No, la cività della tecnica se mi è consentito dire nel mio discorso è il culmine della follia dell'Occidente ma per dire questo occorre un linguaggio e strumenti concettuali del tutto diversi da quelli della contestazione sia pur alta prima ho citato Heidegger che oggi è in circolazione. Ecco, ma ancora una volta io vorrei che lei mi aiutasse a capire meglio come lei si colloca in questa sua critica alla nostra società e come lei vedrebbe una trasformazione o come noi o quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento. Intanto c'è un percorso, dicevo prima un percorso inevitabile. Io la riporto di continuo sempre la stessa domanda. Certo, lo fa benissimo perché sa uno i tabernacoli si aprono mal volentieri allora il discorso più importante bisogna forzarli un pochino in genere tendo a il discorso che per me è più importante tendo a non farlo così appunto con l'atteggiamento che si tengono chiusi in tabernacoli. Penso anche però che queste cose che stiamo dicendo sono masticate a fatica nella cultura contemporanea. questo stesso discorso di un percorso inevitabile. Chiudiamo rapidamente il percorso. Dove si va? Si va verso una scienza tecnica capace di risolvere quelli che per noi oggi sono i problemi fondamentali dell'uomo e non una scienza alla Orwell ingenuamente macchinistica scientifico non umanistica ma un paradiso della tecnica dove siano dove siano rivalutati e tutelati nuovamente i cosiddetti valori dello spirito. Ora prima quando mi ero fermato e avevo detto c'è ancora un passo da fare prima dei tabernacoli prima dei tabernacoli intendevo dire questo il paradiso della tecnica è costruito con la logica della scienza della scienza moderna che cos'è un paradiso è un luogo di massima felicità e quindi noi abbiamo tanta paura tanto più paura di perderlo quanto più ci dà felicità più sale la felicità più temiamo di perdere allora il paradiso della tecnica è verosimilmente ma non stiamo facendo un discorso utopico è la dimensione in cui per la prima volta nella storia dell'umanità l'uomo potrà essere al massimo felice nel senso di aver risolto quelli che noi oggi riteniamo i problemi principali dell'uomo ma quindi crescerà al massimo il timore il timore di perdere questa felicità e allora se riflettiamo sul fatto che la logica del paradiso della tecnica è una logica ipotetica perché è la logica scientifica così come la stessa scienza contemporanea riconosce cioè non è verità assoluta ipotesi allora è una felicità ipotetica e che vuol dire che l'angoscia di perdere questa felicità è esposta alla alla possibilità reale di perdere cioè il paradiso della tecnica in quanto è fondato sulla scienza è destinato a diventare un inferno in quella situazione allora ecco che può ritornare in gioco la filosofia perché in quella situazione quando i bisogni fondamentali saranno risolti e quale sarà l'unico bisogno non risolto e d'altra parte decisiva ma quello sulla verità della felicità goduta nel paradiso della tecnica perché è abbiamo detto una felicità scientifica quindi ipotetica allora il problema che non sarà più l'occupazione mia o sua o di qualcuno ma sarà l'occupazione corale dell'umanità sarà il problema del senso della verità del significato della verità e dunque della possibilità di avviare un discorso sulla verità totalmente diverso da quello che dai greci ha portato alla scienza dalla scienza al paradiso della tecnica c'è la possibilità nel nostro futuro non prossimo ma neanche troppo remoto che dunque ci si trovi di fronte a un bivio cioè la filosofia come occupazione primaria dell'uomo ma con rischio che la filosofia interessandosi di nuovo della verità si riporti a quel suo inizio greco che ha determinato la storia dell'occidente secondo i passi che così ho indicato e invece si tratterebbe di vedere il senso radicalmente alternativo appunto si finirà per scoprire che la felicità che noi cerchiamo di raggiungere attraverso la tecnica che in parte abbiamo raggiunto non è tutta la felicità ma addirittura è effimera e quindi dobbiamo ritornare a porci le domande fondamentali e sarà la nostra angoscia a costringerci a chiederci che garanzia ha la felicità goduta ma garanzia vuol dire che tipo di logica che tipo di verità cosa vuol dire verità e queste sono le domande essenziali ma lei pensa che sia possibile all'uomo dare una risposta a queste domande fondamentali su migliaia di anni che si arrovella io una delle cose più importanti che credo sulle quali si debba riflettere è questa dato il modo in cui la filosofia è partita e cioè come dicevo all'inizio come sentinella del divenire allora è inevitabile che ogni verità muoia ma se si incomincia in un altro modo e cioè se si incomincia a mettere in questione la fede fondamentale dell'Occidente e cioè la fede che esista quel mare di cui parlavo prima cioè la trasformazione che esista il mondo come trasformato che esista la liquidità delle cose che esista l'agire se tutto questo viene messo in questione e allora ecco uno dei tratti a mio avviso significativi di quanto sono andato facendo è proprio l'affermazione della possibilità che la filosofia riesca a fare ciò che dato quell'inizio non ha potuto fare dato quell'inizio certamente non può esistere verità non può esistere fondamento tutto è problematico ma tutto questo discorso viene fatto all'interno di quella che chiamo la fede fondamentale dell'Occidente cioè la fede nel divenire delle cose che non viene mai messa in questione né dalla filosofia né dalla scienza né dalla religione date le premesse quelle sono le conseguenze se noi partiamo dalla fede che esista il trasformabile e sembra che questa fede non sia fede ma sia un'evidenza ma quando ci domandiamo ma perché un'evidenza allora si rivela fede o almeno qualche cosa di questionabile e allora incomincia un tipo di discorso ma io non lo chiamerei più neanche filosofico che però riguarda il senso della verità ma del tutto diverso da quello della storia dell'Occidente è quello in cui allora diciamolo apriamo un momento il tabernacolo quello in cui ecco tutte le cose sono eterne ma non nel senso per cui c'è Dio eterno e noi povere cose qui ma nel senso che ogni situazione del mondo anche questo nostro così guardarci ogni gesto ogni istante ogni determinatezza è ed è impossibile che non sia ecco questa è l'alternativa che però buttata così sembra un mito che delle volte fa venire in mente l'Oriente si effettivamente le fa venire in mente si a me fa venire in mente l'Oriente perché mi sembra tante volte almeno questa sera anche ma poi leggendo sulle sue pagine che dietro a questa realtà mutevole lei intraveda qualcosa di eterno e questo apparire scomparire sono le facce dell'eterno ecco non è che e questo appunto mi fa pensare non solo all'Oriente ma anche a un atteggiamento piuttosto mistico di ricerca interiore come se dentro di noi ci fosse una verità profonda guai invece siamo proprio gli antichi non è questa la sua posizione proprio no assolutamente no semmai la direzione è quella di chi cerca una razionalità più radicale al di sopra della razionalità filosofica scientifica quindi non andare nell'irrazionale ho capito ma nel rilevare che la cosiddetta ragione filosofico scientifica è irrazionale rispetto alla razionalità autentica quindi assolutamente no al misticismo ma anche assolutamente no all'Oriente no all'Oriente perché l'Orientale dice di fare esperienza per esempio di Brahman Brahman è il divino è un'esperienza invece no un'esperienza ci dice che noi siamo così ma potremmo essere altrimenti un'esperienza non può mai togliere il dubbio l'esperienza del mistico il mistico è davanti a Dio ma se uno dice al mistico ma chi ti dice che questo sia Dio e non un'illusione il mistico come fa risponde o non risponde o invita l'interlocutore a diventare a sua volta mistico ma anche l'interlocutore allora ecco oppure deve dar conto di ciò che afferma quindi il dar conto è ciò che i greci chiamavano logos da dove viene la parola logica ma la logica è qualcosa di molto depotenziato allora assolutamente no mistico assolutamente no l'oriente ma anzi il rilevamento del logos autentico quindi l'invito è a rimborcarsi le maniche per rendere radicalmente più autentico il senso della ragione quindi lei ritiene che sia possibile sviluppare la ragione fino a un punto in cui si ottiene un nuovo modo di vedere il mondo che non sia dogmatico però se fosse è quello tirando via tutto il discorso del tentativo di sviluppare sino arrivare a e cioè anche qui uso una frase di Wittgenstein cioè ci si incammina sperando di diceva una verità alla quale si arriva ma Wittgenstein è un autore dell'occidente quindi mi servo soltanto di Wittgenstein un po' per far capire quello che intendo dire ma se la verità è là e noi siamo fuori non arriveremo mai alla verità perché se siamo fuori dalla verità e dobbiamo camminare per arrivare il cammino è non verità quindi la verità è già in noi ecco non non la verità è già in noi noi siamo originariamente nella verità e la verità non è un un paradiso al quale arrivare ripeto ma per questo motivo che mi sembra perpendicolare perché se la verità è là e noi siamo in cammino il cammino è fuori dalla verità e allora costitutivamente non potrà mai condurre alla verità in realtà ci siamo già ma ci siamo persi un po' per strada no ci siamo e sembra che la cosiddetta che i popoli non sappiano di esserci ecco questo è semmai cioè l'uomo è infinitamente di più di quello che crede di essere ma non sa di essere perché a un tempo sono state fissate delle premesse che poi hanno portato a determinate conseguenze ma in fondo si potrebbe ritornare alla verifica di queste premesse dato che in noi c'è già una verità che c'è già la verità quindi c'è possibile questo tipo di scoperta io oggi parlavo in quel convegno che c'è stato a Beninzona e usavo questa metafora l'uomo è più che Dio perché Dio è ancora una forza è concepito come una forza che si crede capace di produrre distruggere trasformare il mondo si tratta di capire che al di sopra del gioco delle forze c'è qualche cosa che mostra come questo gioco sia il contenuto di un sogno e allora oggi io dicevo l'uomo è un re che crede di essere un mendicante ecco ma questo se lo sentiamo come un mito non ha nessun interesse non vale la pena di stare qui a sentire queste cose l'interessante è vedere il perché si dice questo la razionalità di questa affermazione senza di cui allora questa sarebbe una fede che si affianca alle altre e quindi non varebbe la pena di perdere tempo ad ascoltarla io devo dire che ascoltandola a parte che ho qualche difficoltà l'ho confesso a seguirla perché sono cose veramente molto nuove e credo non solo per me però c'è anche così io sento anche una una certa pace dentro di me perché è anche abbastanza consolatorio sentirmi dire che in noi c'è già una siamo già nella verità dobbiamo solo scoprirla cioè quindi ci sono delle possibilità ecco mentre da molto tutti dicono no la verità noi non possiamo raggiungerla noi viviamo nel dubbio ecco ma questo però mi dà francamente anche un certo brivido pensando a che cosa vuol dire poter conoscere la verità essere nella verità naturalmente la parola il tema che mi rimette subito il dogmatismo pericoli già sperimentati tanto in modo direi che l'individuo è fatto in modo da dover rabbrividire sentendo questo discorso certo perché l'individuo è il portato storico di quel tipo di cultura che questo discorso mette in questione quindi mette in questione anche le nostre strutture psicologico individuali mette in questione l'essere uomo è uno scossone gigantesco il concetto di scossone implica quel concetto di forza ancora che 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 nel senso che nel senso che il modo di vedere precedente viene a vacillare insomma io direi addirittura che questo è il problema del tramonto dell'Occidente il tramonto della civiltà occidentale noi siamo destinati ad andare molto avanti all'interno della civiltà occidentale ma la grossa questione è mettere in questione la radice di questa civiltà se intanto che non si fa questo si continueremo a ripetere in forme più o meno variate la storia la nostra storia passata e anche i tentativi di pace i tentativi che si fanno in giro che sono pur nobili saranno destinati a fallire proprio perché saranno sempre animati da questa volontà di salvezza che è pur sempre una forma di volontà di potenza lei sa che uno si salva se è forte se ha potenza sull'ambiente riesce a salvarsi e viceversa ha potenza sull'ambiente solo se riesce a salvarsi riesce a salvarsi se è potente potenza se si salva quindi la stessa volontà di salvare l'uomo la volontà di pace è è un grosso equivoco perché è fondata proprio su quella volontà di potenza che la volontà di pace vuol togliere di mezzo si parla tanto di pace ma direi che lo stesso concetto di pace è estremamente più problematico di quanto non si sospetti restando agli interni dei parametri della cultura occidentale sì ma allora come agire come muoversi in questa nuova prospettiva la domanda è terrificante è difficile però certo inevitabile io me la porto dietro insomma guardiamo io me la cavo con un è uno dei temi ai quali più ho dedicato attenzione nei cosiddetti miei iscritti c'è nel Vangelo un passo dove Gesù dice voi peccate sette volte sette però l'uomo sa di essere peccatore però continua a peccare e questo discorso dice in quanto l'uomo agisce e da che agisce l'uomo pecca cioè è preda di quella follia di cui parlavamo prima la follia della volontà di potenza allora da questo punto di vista non l'uomo pecca sette volte sette ma pecca settanta volte sette cioè ogni gesto dell'uomo è un errore ma questo allora non vuol dire che dunque noi decidiamo di incrociare le braccia e ci mettiamo come il saggio perché questa stessa volontà di non agire è una forma di azione ma incominciamo però a guardare tutto quello che facciamo con un occhio diverso se il peccatore di Gesù si vive sapendo però che quello che fa è un peccato qui è negatività qui si tratta beh è un discorso equivoco ma questa immagine evangelica può chiarire un po' le cose di allargare il concetto di errore alla totalità dell'agire e non certamente con l'intento di smettere di agire di non agire più ma con la coscienza critica che elimina poi ogni fanatismo che in ogni tipo che in qualsiasi tipo di azione ci sia la verità sì dobbiamo siamo gettati nell'agire ma agiamo sapendo che tutto quello che facciamo è non verità e questo lo si possa dire perché la verità appare e allora non ci sarà più il chiudersi nella scelta di una fede di un comportamento di un partito di un popolo di un Reich di una razza ma ci sarà questa ma questo è il minimo è la risposta minima alla sua domanda interessante ma ci sarà la coscienza radicalmente critica rispetto a ogni progetto attivo ogni costruttivo sì che la salvezza non può essere portata da un progetto umano divino questo è uno dei corollari ma credo di aver risposto in qualche modo cioè andiamo andiamo verso secondo quanto se ho ben capito verso una maggiore presa di coscienza una maggiore responsabilità e tolleranza quindi queste sono sì a mio avviso conseguenze residuali però inevitabile forse immediatamente più percepibili da chi ci sta ascoltando però non le conseguenze decisive queste sono conseguenze purtroppo il tempo è scaduto è tiranno e io prima di ringraziarla vorrei dirle che indubbiamente lei ha buttato molti sassi in piccionare cioè ha provocato molto credo che siano discorsi che vadano continuati non nascondo che è un discorso molto difficile non nascondo nemmeno che ho avuto qui la difficoltà a seguirla però credo che io mi sono sentito stimolato spero che anche il pubblico a casa lo sia stato come è tradizione della nostra trasmissione l'ospite a carta bianca per concludere io la carta bianca la lascerei a quello che abbiamo detto perché per sovrapporre a quel contenuto la mia carta bianca penso che faremmo un torto al contenuto a quello che abbiamo detto la ringrazio molto grazie grazie